Oh ragazzi, ciao! Mi chiamano dall'officina perché forse quella cosa che stavo progettando riusciamo a farla Oh, dimmi un po' Eros, com'è? Ce l'abbiamo fatta? Tutto a posto, con questi codici qua il motore si blocca Si blocca? Ce l'abbiamo fatta? Si blocca immediatamente Uh, adesso vi spiego di cosa si tratta, grande Eros, grazie Figura Allora ragazzi, come avete visto ero in officina perché? Perché io ho chiesto di costruirmi un jammer per le bike Così almeno mi evito il problema della mezza ruota Che cosa succede? Cioè io parto, vado in bici Se una e-bike mi arriva nel raggio di 5 metri si spegne O meglio, si disattiva il motore? Allora, questa cosa è una cosa che stiamo brevettando e funziona così Questa è la strada, io sono qui, pedalo Questo jammer emette un'onda Qua, così Che disattiva I motori delle bici elettriche Quindi, chi arriva qui Io salgo a 15 all'ora Chi arriva di qui a 25 Come entra qui dentro Si ferma Il motore, poi se hai la gamba mi superi Però il motore ti si spegne E questa è una cosa davvero interessante È bello Appena sarà disponibile Fatemi un po' sapere in quanti lo preordinerete questo bel gingillo E questa è una cosa davvero